1.200 km di diametro, si dirige verso 24.41 gradi. Sta venendo proprio verso di noi. In base all'incremento attuale, stimiamo una forza di... 8.600 newton. A quale forza si abortisce? 7.500. C'è pericolo che il Mab venga rovesciato. Pronti alla procedura d'aborto? Aspettiamo che passi. Prepararsi alla partenza di emergenza. Comandante. Abortiamo, è un ordine. Martínez, quanto manca al decollo? 12 minuti. La visibilità è quasi zero. Se qualcuno si perde, l'obiettivo è sul telemetro della mia tuta. Siete pronti? Pronti! Comandante, tutto ok? Sì, sto bene! Ehi! Potremmo ormaiggiare il Mab, così non capoterà! Attenso! Io ti garantisco che a un certo punto ti ritroverai nei casini. Pronti? Direi, ci siamo. Attenso! Wadley! Questa è la mia fine. Comandante, Mark è morto. Dobbiamo andare! Quindi o lo accetti... ...o ti dai da fare. ...